Family, ciao! Si avvicina la festa della mamma, mi faceva piacere offrirti questa raccolta di ricette. Non è un menù, ma sono ricette che un po' piacciono a me, un po' so che potrebbero piacere a lei, e quindi confrontiamoci nei commenti e dimmi se approvi. Ecco, fammi sapere! Si tratta di qualche stuzzichino sfizioso e naturalmente una bella carrellata di dolci. Partiamo con questi calzoncini ripieni. Ti dirò, è un antipasto, uno stuzzichino, ma io ci farei volentieri un pranzo con la mia mamma. Una pasta sfoglia, ti propongo sempre la mia, quella fatta in casa. Naturalmente, se non hai voglia, se non hai possibilità, è comunque un'idea per srotolare quella che trovi nel supermercato. Questa però è veramente facilissima. Ti faccio una carrellata di queste ricette, trovi ognuna di queste ricette sotto nei link in descrizione. Mi raccomando, vai a vedere perché sono più dettagliate. Comunque, ti ho fatto vedere, questa è una lavorazione super semplificata della pasta sfoglia. Vai ad ottenere questo panetto semplicemente mischiando tutti gli ingredienti che vedi nel riepilogo degli ingredienti, appunto, e vai a formare queste sfoglie. Sono delle strisce che tu devi ripiegare in questo modo, come vedi nel video, e devi far riposare in frigo. Alterna queste lavorazioni e mantieni sempre il tuo panetto ben freddo. Come si conserva? Così, nella carta forno, 20 minuti in frigo oppure 10 minuti in congelatore. Mi raccomando, fai, insomma, più di una piega per avere una bella sfogliatura della tua pasta sfoglia. Trovo che sia una lavorazione che tutti debbano provare prima o poi. Non ti scoraggiare perché è davvero facilissima. Questa dose la puoi dividere in tre, fare di nuovo queste pieghe che ti assicurano, appunto, una bella sfogliatura, e poi stendere fino ad uno spessore di un paio di millimetri. Scegli il tuo ripieno, quello che piace alla tua mamma, fai una specie di raviolo, così. Poi lo chiudi bene, lo sigilli con le mani. Io l'ho fatto anche con la passata di pomodoro, ti assicuro che viene benissimo, anche se fuoriesce un po', non fa niente perché è buono lo stesso. Vai a spennellare con l'olio e guarda come si gonfiano! Sono bellissimi e buonissimi. Guarda che bontà! Per la seconda ricetta ho pensato ad un burger vegetale. Non so perché, ma insomma associo sempre la figura della mamma a delle ricette un pochino salutiste. Non so bene perché. Comunque, tu sai che io l'ammollo lo faccio direttamente in microonde, sempre sotto in descrizione trovi tutti i dettagli. Questi burger sono golosissimi. Metto dentro delle noci per dare un pochino di croccantezza e della zucchina, ma naturalmente sono molto molto versatili. Metti dentro i gusti che preferisci. I ceci, una volta ammollati, li spezio. Qui c'è dell'origano, ma puoi aggiungere anche della paprika, del peperoncino, quello che preferisci. E poi ho aggiunto anche dei pomodori secchi per dare un po' di sapidità. In alternativa puoi mettere anche dei capperi, per esempio. Questa ricetta è comodissima perché usi un blender, un robot da cucina, quello che assolutamente hai a casa. Aggiungi un pochino di acqua dei ceci, che tu sai che è estremamente elegante per i nostri ingredienti. Addirittura si utilizza al posto delle uova in alcune ricette. E vai a mischiare il tutto. Anche la tua zucchina, ovviamente, che io ho grattugiato a crudo. Un pochino di pangrattato. E poi non aggiungo uovo, proprio per il motivo che ti dicevo prima. Pressa bene con le mani e forma i tuoi burger. Sono eccezionali, buonissimi. E niente, io ho pensato così. Questo in realtà è un pranzo, come si dice, un brunch. Nel senso che ci sono una serie di piccole cose buone che puoi fare anche tutte insieme oppure scegliere quella che ti stuzzica di più l'appetito. Questi burger si fanno comodamente in una padella antiaderente. Guarda, viene una bella crosticina dorata e sono deliziosi. Per non servire una salsa comprata, se vuoi, puoi fare un simil ketchup al microonde con una bella passata di pomodoro, dell'olio, dell'aglio, del sale. E vai a bassa temperatura per un paio di minuti. E poi aggiungi le spezie che vuoi. Puoi mettere del basilico, dell'origano, del peperoncino, tutto a crudo. E viene una cosa molto sfiziosa. Questa invece è una salsa di robbiola e zucchine. Trovo che sia un piatto unico eccezionale. Dimmi se piace alla tua mamma. Altra super golosità, la pizza di patate senza lievitazione. Lessa delle patate, io le faccio anche queste al microonde, e schiacciale con lo schiacciapatate direttamente sulla spianatoia. Aggiungi la farina, un mix per pane qualunque andrà benissimo, nel mio caso senza glutine. E mischia con le mani semplicemente, vai ad aggiungere un pochino di acqua. Le dosi sono indicative in base alla qualità e all'umidità delle patate. Quindi mi raccomando, fai attenzione. Però se guardi bene il video, ti accorgi subito come cambia l'impasto. Ecco, vai a pizzicare con le tue mani. E un segreto per far venire bene questo impasto, è utilizzare dell'acqua calda. Non bollente, ma insomma abbastanza calda. Aggiungi un pochino d'olio e vai a compattare il tutto. Una spatola ti aiuterà nell'operazione. Ecco, se vuoi stupire la tua mamma, questa è una ricetta perfetta. Perché davvero, con la sola imposizione delle mani, otterrai questo meraviglioso panetto super morbido, grazie alle patate. Vai a dividere l'impasto, una parte un pochino più grande rispetto all'altra, e vai a stendere con il matterello. Prendi la misura della tua teglia. Noi qui abbiamo fatto questa cottura con il fornetto elettrico, quello per pizza, però in forno tradizionale va benissimo lo stesso. Io ho steso un pochino d'olio su questa teglia. Puoi assolutamente regolarti in base a... appunto se vai nel forno tradizionale puoi mettere della carta forno, come preferisci. Vai a stendere anche il secondo panetto che hai lasciato da parte, e poi, se ci fai caso, ti sto proponendo tutte queste ricette ripiene dai calzoni. Insomma, trovo che quando si debba pensare ad un menù, oppure a delle ricette per una festa in particolare, sia utile utilizzare proprio delle ricette che siano versatili. Quindi, per esempio, qui se vuoi metterci delle verdure grigliate va benissimo, a seconda dei gusti appunto della festeggiata. Io qui ho scelto un prosciutto cotto ed una scamorza a fette. Se la lasci a fette viene bella filante. Vai a chiudere i tuoi bordi, ma insomma non può riuscire a niente, e vai a fare la tua cottura. Per la cottura nel forno tradizionale ti rimando al blog. Sotto in descrizione trovi tutte le informazioni. Che bontà! Guarda che meraviglia! Mi raccomando, iscriviti al canale per queste ed altre ricette furbissime. Ma non è finita qui! E come per i ceci, quando penso alle mamme, penso anche alle verdure. Però in questa ricetta le serviamo in un modo super sfizioso. Abbiamo delle zucchine che puoi tagliare così in modo sottile con una mandolina. E viene fuori una chips da paura, davvero. Utilizziamo la farina di riso per impanarle leggermente. Insomma, che te lo dico a fare? Super inclusiva la farina di riso perché se la tua mamma è celiaca o sei tu celiaca, naturalmente potete mangiarle insieme senza alcun problema. La farina di riso si attaccherà alle zucchine perché attireranno con la loro umidità esattamente la porzione di farina che va benissimo per far venire delle chips super croccanti. Impanarle semplicemente con le tue mani, ecco qua. E intanto metti subito a scaldare l'olio perché tanto sono velocissime. Olio di semi di arachidi, è una frittura abbastanza tradizionale, alla solita temperatura dei 170 canonici, 170 gradi. Deve fare questo effetto, quindi appena vai a mettere la tua chips, una bella, come dire, un bel friccicorio dell'olio, ecco qua. In pochissimo tempo si doveranno, servite calde saranno estremamente croccanti e buonissime, super sfiziose. Fatevi un aperitivo, fatevi una chiacchierata, un prosecchino, un vinello, una birretta, quello che ti piace consumare con la tua mamma. E partiamo con il primo dei tre dolci. Questo è quello un pochino, diciamo, più elaborato perché lo cuociamo in forno. Puoi farlo il giorno prima perché si tengono benissimo queste brioche, oppure il giorno stesso poi da servire magari con un tè dopo pranzo. Vai a rompere le uova, metti il latte, lo zucchero, tutti gli ingredienti liquidi che vedi nel riepilogo. Poi metti il tuo lievito nella farina, giri un pochino e vai ad aggiungerlo al tuo impasto liquido. Gira con la forchetta molto semplicemente, come vedi i miei impasti sono super veloci e appena possibile puoi trasferirti sulla spianatoia. Fai una leggera lavorazione e poi ti dico come procedere. Ho scelto queste brioche per la festa della mamma perché le vedi sono bellissime, a forma di fiore e in realtà sono super facili da fare. Ti lascio un popi popi per farti vedere la consistenza del tuo impasto. Come sai io utilizzo farina senza glutine ma puoi tranquillamente riprodurle con altri tipi di farine. Vai a dividere il tuo impasto. Fai attenzione che tutte le palline siano uguali così le tue rose saranno tutte simili tra loro. Guarda la semplicità di questa lavorazione. Non uso neanche il matterello. Con le dita semplicemente vado a schiacciare e formo la mia striscia. Le faccio tutte più o meno simili, insomma quanto più possibile uguali tra di loro. Anche se vedi lo spessore non è estremamente uniforme ma non è importante. Scegli il tuo ripieno, quello che ti piace, quello che piace alla tua mamma. Cospargilo generosamente sulla striscia. Poi arrotola in questo modo e preparati i tuoi pirottini. Questo è uno stampo da muffin con dentro i pirottini e le tue girelle che poi diventeranno delle brioche. Vai a spennellare con il latte e in forna a forno già caldo, statico, 180 gradi. Guarda che meraviglia! Sono stupende, sembra un bouquet. Meravigliose. Ancora più meraviglioso, ancora più assai. Il taglio. Guarda che bontà! Passiamo al secondo dolce. Non potevo non proporti una cosa veloce senza cottura e non potevo non proporti una cosa senza caffè. Alla mia mamma piace tanto, anche a me, e quindi, insomma, se vuoi, è con bel tiramisù velocissimo senza cottura. Ti faccio anche una bella versione al cioccolato perché magari, ecco, al cacao amaro è più gradito alla tua mamma. Ma come preferisci. Quello che non deve mancare sono dei biscotti, semplicissimi biscotti secchi. Questi sono con delle gocce di cioccolato. E invece la crema l'ho fatta con semplice ricotta, un pochino di zucchero e delle scaglie di cioccolato fondente. La semplicità, davvero, senza uova crude. Le metti, fai questi barattolini che sono super carini. Aggiusta una bella base di biscotto. Come vedi, sono irregolari a pezzettoni. Valli a bagnare con la tua bagna al caffè o al cacao, come preferisci. Insomma, lascia un pochino di liquido sotto, così piano piano si ritirerà e diventeranno belli morbidi. Un secondo strato della tua crema, appunto questa alla ricotta, e poi vado avanti così a strati. La semplicità, puoi farlo il giorno prima, sarà un pochino più pastoso, un pochino più insaporito. Però, insomma, se all'ultimo secondo hai voglia di una cosa del genere, la puoi fare tranquillamente in 5 minuti netti. Anche la copertura sopra può essere personalizzata. Scaglia di cioccolato oppure semplice cacao. E tanti auguri! Guarda che bello! Non te ne andare perché l'ultima ricetta è ancora più spaziale. Seconda ricetta a base di caffè. Se hai capito che ci piace il caffè, in realtà non è un dolce, ma è proprio una sfiziosità così per merenda. Un rinfreschino, diciamo così. Prepara il tuo caffè, fallo raffreddare, aggiungilo alla panna da montare e mettilo in congelatore. Ecco, questo sì, lo devi fare il giorno prima, effettivamente. Vai a formare i tuoi cubettoni congelati e poi frullali con altra panna in un frullatore, in un blender, quello che vuoi. Se ti procuri della frutta ben dolce e fresca, puoi assolutamente cambiare gusto, a seconda di quello che ti piace. Vai a creare questa bella cremina e procurati assolutamente degli stampi. Aggiungi l'altra panna da montare, vai a frullare di nuovo e resta solo da aspettare il congelamento negli stampi. Eccoli qua. Non fare il macello che ho fatto io, mi raccomando, che sennò poi la mamma ti bacchetta. Riponi in frigo e sono buonissimi. Falli anche alla frutta così li offri ai tuoi bimbi, che poi le mamme e le nonne sono più contente. Spero che ti sia piaciuta questa mia collection. Fammi sapere nei commenti e tanti auguri a tutte le nostre mamme e anche a me. Ciao family!